E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buona domenica ad Alberto Pucci e benvenuti a Inter Torino. Partita valevole per la dodicesima giornata di campionato. A spingere i nerazzurri oggi sono in più di 70.000. Qui sbaglia D'Ambrosio, regala il pallone ad Ansaldi. Occhio al Toro, palla dentro, poi pallone per Baselli! Sinistro di Baselli in due tempi Andanovic. Pericolosa la squadra di Mihailovic su un errore in transizione difensiva dei nerazzurri. Lo scambio con Borcavalero che allarga per Vessino. Il tiro cross di Vessino sul primo palo. Sirigu deve tuffarsi sulla sua destra per evitare il gol. Attenzione però all'Inter. Candreva, area di rigore, alza la testa. Candreva, palla nel mezzo per Riccardi! Che colpisce male il pallone. Di nuovo Inter, ancora Perisic per Nagatomo. Gagliardini potrebbe calciare. Arriva destro! Il destro di Gagliardini! Di poco alto sulla traversa di Sirigu. Applausi per l'Inter. Inter sempre pericolosa. Palla che arriva di Cardi. Limite dell'area. Icardi si libera per il sinistro. Icardi! La deviazione decisiva di un difensore del Torino. Ora si può andare. Vacandreva morbido nel mezzo. Pallone che spiove! Colpo di testa! Vola Sirigu sulla deviazione di Skriniar. Vicino al suo terzo gol in campionato. L'ultimazione del primo tempo probabilmente della Toro. Ansaldi, ubriaca Candreva. Ansaldi va nel mezzo. Ottimo! Il colpo di testa! Di Baselli! Vola Andanovic ad evitare il gol. Granata! Si parte. Secondo tempo che comincia. Ora... Borca Valero che alimenta di nuovo l'azione per la banda di Spalletti. Ora Nagatomo salta a seco Iago Falkes. Accentra il giapponese. Palla dentro per Messino. Coppa di testa! Miracolo! Perisic. Punta De Silvestri. Perisic va nel mezzo per Borca Valero. Lo scarico dietro. Icardi! La deviazione! Palla fuori di un nulla! De Silvestri. Gran palla per Iago Falke. Attenzione al Toro. Iago Falke. Limite dell'area. Iago Falke potrebbe calciare! Torino in vantaggio! Iago Falke! 1-0! Grande azione di Iago Falke! Ed esplode la curva dove sono assiepati i tifosi granata. Parte il Giaic. Pallone che spiove! Il colpo di testa! Da zero metri! Di Obi! Palla sul fondo! Toro ad un passo dal 2-0! Dentro Eder! Fuori Gagliardini! Perisic limite dell'area! Perisic su sinistro! Altro cross per Icardi! La palla dentro! Eder! 1-1! La rimette in piedi l'Inter! Splendida giocata di Icardi! Inter che riparte comunque centralmente con Vessino. Potrebbe calciare Vessino! La traversa! Incredibile! Ed è terminato il match di San Siro sotto la pioggia!